Matteo Messina Denaro è morto, il boss è deceduto nella notte all'ospedale dell'Aquila dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Una pensione più dignitosa ha illustrato questa mattina presso l'aula consigliare dell'ex provincia di Trapani un progetto di legge d'iniziativa popolare che potrebbe consentire agli ex impiegati pregari la possibilità di riscattare i contributi figurativi. La rana e lo scorpione presentato questo pomeriggio presso il polo museale San Rocco il libro del professore Pietro Massimo Busetta il tema di ripensare al sud senza essere emigranti né briganti. Buonasera e bentrovati con l'informazione serale del Tg Sud iniziamo con la notizia del decesso di Matteo Messina Denaro avvenuto all'ospedale dell'Aquila nella notte dove era stato ricoverato in gravissime condizioni il servizio. Matteo Messina Denaro è morto. Il boss di Cosa Nostra è deceduto nella notte all'ospedale dell'Aquila dove era ricoverato a seguito delle complicazioni del grave tumore al colon che lo aveva colpito. Aveva 61 anni. Noto anche con i soprannomi di Usicco e Diabolic è stato catturato dopo 30 anni di latitanza. Capo indiscusso del mandamento di Castelvetrano e della mafia del Trapanese era considerato uno dei boss più importanti di tutta Cosa Nostra. Messina Denaro inizia la scalata criminale nel 1989 quando viene denunciato per associazione mafiosa per la partecipazione alla faida tra i clan Naccardo e Ingoglia di Partanna a soli 20 anni e il pupillo di Totorina. Figlio d'arte, il padre Don Ciccio infatti fu capo della mafia ha trasformato Cosa Nostra strappandola alla tradizione del fevudo per catapultarla nel mondo delle imprese. In particolare Matteo Messina Denaro divenne fondamentale nel far nascere il suo dalizio tra il capo dei capi e i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. È stato un uomo chiave nel biennio stragista 92-93. Era ritenuto vicinissimo a Totorina e quindi conoscitore di oscuri e importanti pezzi della possibile trattativa stato-mafia. Tentò di uccidere mitragliette in pugno anche il vicequestore Rino Germana. Strangolò con le proprie mani Antonella Monomo, la compagna del boss di Alcamo Vincenzo Milazzo e nel 1995 ordinò l'assassinio dell'agente della polizia penitenziaria Giuseppe Montalto per dare un segnale ai dannati del 41 bis. Rappresentante di una nuova generazione di uomini di mafia è stato arrestato nel gennaio 2023 dopo 30 anni di latitanza all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo dove era in cura sotto falso nome e trasferito in un carcere di massima sicurezza. Pochi mesi dopo è stata arrestata anche la sorella Rosalia accusata di associazione mafiosa. Nella sua carriera criminale ha collezionato decine di ergastoli. Oltre a quelli per le bombe del continente ha avuto il carcere a vita per il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito rapito da un combando di Cosa Nostra strangolato e sciolto nell'acido nel 1996 dopo quasi due anni di prigionia. Riconosciuto colpevole di associazione mafiosa a partire dal 1989, l'ultima condanna per mafia è a 30 anni di reclusione in continuazione con le precedenti. Il Tribunale di Marsala per la prima volta gli ha riconosciuto la qualifica di capo nel 2012 e una pioggia di ergastoli. Il boss li ha avuti anche nei processi Omega e Arca che hanno fatto luce su una serie di omicidi di mafia commessi tra Alcamo, Marsala e Castellammare tra il 1989 e il 1992. Un altro caso di femminicidio perché deceduta Annalisa Fontana, la donna di Vantelleria data alle fiamme dal compagno Onofrio Bronzolino. La 48enne era ricoverata all'ospedale civico di Palermo dopo l'aggressione subita. Le condizioni della donna erano considerate disperate dai medici dopo che il marito l'aveva gettato addosso benzina dandole fuoco al culmine di una lite nella notte tra venerdì e sabato scorso. Annalisa aveva riportato ustioni sul 90% del corpo. Ferito al volto dal ritorno di fiamma, il marito ora piantonato al civico. Frattanto a Pantelleria è stata organizzata per mercoledì sera una marcia per dire stop alla violenza contro le donne. La posizione di Onofrio Bronzolino adesso si è aggravata. Già posto in stato di fermo dai carabinieri l'accusa adesso di omicidio. Proseguiamo con la cronaca perché avventura a lieto fine per una famiglia austriaca la cui barca a vela è rimasta incagliata al largo di Trapani. Ieri pomeriggio la squadra nautica dei Vigili del Fuoco del distaccamento portuale di Trapani è intervenuta su richiesta della Guardia Costiera per prestare soccorso ad un'imbarcazione a vela di circa 14 metri che si era arenata nella secca nei pressi della torre di Nubia a causa del mare molto mosso. Nessuna imbarcazione della Capitaneria riusciva ad avvicinarsi a causa del forte molto ondoso. Il gommone dei Vigili del Fuoco raggiunta l'imbarcazione metteva subito in salvo i quattro componenti dell'equipaggio trasbordandole sul proprio natante. Si trattava di una famiglia di nazionalità austriaca in vacanza in città che aveva preso a noleggio la barca. I malcapitati, infreddoliti e tutti bagnati sono stati accompagnati presso la sede di servizio dei Vigili del Fuoco e lì sono stati rifocillati. Successivamente i pompieri sono tornati sul posto dove si era incagliata l'imbarcazione e hanno provveduto a disincagliarla e ad affidarla all'armatore per riportarla al proprio ormeggio. Illustrato questa mattina presso l'Aula Consigliare dell'ex provincia di Trapani un progetto di legge ad iniziativa popolare che potrebbe consentire agli ex impiegati pregari l'ottenimento di una pensione dignitosa di servizio. Gli impiegati della regione, della provincia e del comune rischiano di avere una pensione quasi uguale a quella sociale in quanto ex precari. CSA così ha presentato un progetto di legge ad iniziativa popolare già depositato presso la Corte di Cassazione che permetterebbe il riscatto dei contributi figurativi. È un'iniziativa che parte da Palermo ed è stata ben supportata dalla Secretaria Nazionale a Roma. È un progetto di legge di iniziativa popolare che il segretario generale nazionale Francesco Garofalo ha presentato in Cassazione. I contenuti del progetto di legge li esporrà il segretario generale regionale Giuseppe Badagliacca che ci ha dato l'onore oggi di presenziare e di dirigere i lavori dell'Assemblea. Il progetto è stato illustrato questa mattina ad alcuni impiegati presso l'ex provincia di Trapani. Il progetto di presentazione di un'iniziativa di proposta di legge nazionale sta nel dovere riconoscere, nel volere fare riconoscere i contributi a tutti i lavoratori ASU ed LSU che hanno prestato per più di 20 anni, quasi 30, attività nelle pubbliche amministrazioni garantendo dei servizi pubblici. Quindi con questa iniziativa di legge noi chiediamo al governo con il supporto di 50.000 firme di andare a supportare questa iniziativa di legge proprio per dare a tutti questi lavoratori che hanno garantito dei servizi una pensione dignitosa. In che modo sarà possibile, se la legge comunque poi arriva, per i lavoratori appunto ricevere una pensione più dignitosa? Sarà possibile perché in base a questi periodi di contribuzione figurativa che i lavoratori hanno, quindi vuoti, sarà possibile per il lavoratore integrarli con una minima parte e chiedere un supporto praticamente per il riempimento di questa contribuzione al governo nazionale tramite proprio questo disegno di legge. E quindi tutto questo andrà a influire su tutti quei lavoratori che ad oggi se vanno in pensione hanno delle pensioni sotto la pensione sociale, invece così avrebbero quantomeno una pensione da lavoratore dipendente. Lo sport che unisce il titolo dell'evento organizzato dalla cooperativa sociale Badia Grande a Valderice per commemorare le vittime del naufragio di Lampedusa nel 2013. Un minuto di silenzio in memoria delle 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 avvenuto all'erbo di Lampedusa, il lancio di 9 palloncini bianchi in ricordo dei 9 bambini che persero la vita in quella drammatica circostanza e un momento di riflessione sulle tragedie dell'immigrazione che ancora oggi a distanza di 10 anni continuano a ripetersi. Così la cooperativa sociale Badia Grande ha voluto ricordare il decimo anniversario di una delle più gravi catastrofi del XXI secolo unendo un momento solenne di commemorazione dei morti in mare ad un evento sportivo. In occasione del decennale dell'anniversario del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre del 2013 la cooperativa sociale Badia Grande assieme all'equip del Serie Valderice e quella del FAMI Welcome con i minori stranieri non accompagnati di buona agia ha deciso di organizzare questa giornata evento che sia la prima di una lunga serie lo sport che unisce per commemorare le vittime del naufragio e per omaggiare queste persone che comunque invece questo torneo di calcio oggi non sono qui a poterlo disputare. Lo sport che unisce è un momento importante per i ragazzi tanto del Sai Valderice quanto del FAMI perché il calcio comunque è uno degli strumenti che gli permette di tornare ai ragazzi nonostante i ragazzi probabilmente non sono mai stati per quello che hanno vissuto fino ad arrivare al nostro paese per loro a volte anche uno sbocco lavorativo nei paesi di provenienza e quindi tornare a giocare a calcio significa tornare a fare qualcosa che amano. La prima edizione dello sport che unisce è infatti proseguita con un quadrangolare di calcio che ha visto giocare beneficiari dei progetti FAMI 24 Welcome ospiti delle strutture per MSNA cielo azzurro e mongolfiera di Bonagia e Sai del comune di Valderice. Presente anche il sindaco di Valderice Francesco Stabile che ha espresso parole di apprezzamento per la scelta di fare dello sport uno strumento di memoria delle vittime del mare di Lampedusa. Dopo il minuto di raccoglimento Stabile ha dato il calcio d'inizio alla partita arbitrata da Mamadi Sonco della federazione senegalese arbitri. Lo sport che unisce davvero tutti oggi è un piacere presenziale qui a questo evento organizzato dalla cooperativa Badia Grande per ricordare le stragi nel mare, l'ultima strage che c'è stata a Lampedusa. Più di 400 morti fra i quali 9 giovani, 9 ragazzi che oggi avrebbero potuto essere qui a giocare questa partita, a respirare la nostra aria, a respirare quello che il nostro territorio può offrire. Purtroppo non ce l'hanno fatto e oggi questa partita è in memoria di questi ragazzi che oggi non ci sono più. Presentato questo pomeriggio al Polo Museale di San Rocco il libro La Rana e lo Scorpione del professore Pietro Massimo Busetta, docente di Statistica Economica dell'Università di Palermo noi eravamo lì. Un attimo che arriva. Il tema di fondo è cominciare a capire che non è che possiamo continuare a mandare i nostri figli fuori e i nostri nipoti. La gente è felice, certe volte, non ha capito nulla, spesso, perché quando uno dice ah mio figlio lavora a Milano invece di essere contento dovrebbe capire che quella è una sconfitta perché se i ragazzi non riescono ad avere un progetto di futuro qui da noi vuol dire che noi classe dirigente precedente abbiamo fallito tutto e oggi qui ipotesi di futuro per molti non ce n'è e allora noi dobbiamo ricominciare a capire quali sono le motivazioni per le quali tutto questo sta accadendo, per le quali la gente ogni anno dalla Sicilia 25 mila persone se ne vanno, per le quali la gente va a fare anche un lavoro a 1200 euro fuori dovendo affittare la casa e stando fuori di casa pur di avere un modo di sopravvivere. Ecco questo è il tema, il tema è quello di capire che dobbiamo sbracciarci e dobbiamo pretendere dal governo nazionale e dal governo regionale che l'obiettivo non può essere quello del fatto che loro hanno più voti ma l'obiettivo deve essere quello del bene comune. Come mai la rana e lo scorpione? Perché in realtà lo scorpione per me è tutta quella gente che fondamentalmente cerca di estrarre in particolare il nord da queste terre disgraziate tutto quello che possano. Noi siamo la rana e praticamente siamo così stupidi da far attraversare lo scorpione ma lo scorpione alla fine ci punge e ci fa affossare e affondare tutti. Bisogna capire che opportunità si dà al territorio perché la gente possa decidere liberamente di che cosa fare, questo è il vero tema che va affrontato, quante infrastrutture ci sono che consentono uno sviluppo vero e integrato del territorio. Se queste mancano in realtà ai giovani, ai ragazzi e la gente che si affaccia al mondo del lavoro resta una sola opportunità. Devo dire poi fa molto l'integrazione anche con i comuni, con i territori e c'è il principio del sistema che è una parola che comincia a diventarmi pure antipatica. Si parla a tutti su qualsiasi riunione si fa, si parla di sistema ma in realtà probabilmente pochi capiscono cosa significa sistema, integrazione, cosa significa sviluppo. Ecco su questo dovremmo veramente lavorare per consentire alla gente di realmente poter decidere. Quindi essere più rana e meno scorpione? Assolutamente sì, bisogna avere le doti di entrambi, bisogna capire come lo scorpione possa colpire in maniera repentina ma la rana possa anche saltare, quindi bisogna essere bravi per questo. Devo dire che non ci mancano le capacità, io credo che il popolo siciliano è sempre stato abituato a trarre virtù da quel poco che ha. Bene, dovremmo essere un poco più integrati. Credo che gli effetti di questa tendenza che dura ormai da tantissimo tempo, da oltre vent'anni, di 20.000 giovani che vanno via, cominciano a farsi sentire perché la nostra città, il nostro mezzogiorno e soprattutto le aree interne stanno diventando delle città dormitorio. Ci sono delle realtà come Gibellina, Santa Ninfa e quant'altro che sono un aggregato di case, sono paesi senza anima. Quello che noi abbiamo voluto fare stasera è questo, sottoporre all'attenzione dei trapanesi questo problema, il problema dello spopolamento, il problema del fatto che il mezzogiorno non offre occasione di lavoro ai giovani e come tali sono costretti ad andare via. Bene, questo era l'ultimo servizio, adesso linea a Stefania Renda con l'ampia pagina sportiva. Ieri è arrivato il primo trofeo delle Rantonini, la Trapani Shark ha vinto la Supercoppa di A2, quindi grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.